Allora, vi aggiorno brevemente sulla situazione. Ho ricevuto un messaggio che è stato in realtà mandato ieri alle 22.56, ma l'ho ricevuto solo oggi perché non avevo internet nel telefono, che è un messaggio dell'unità di crisi che dice Covid-19 si invida a contattare il proprio agente di viaggio o compagnia aerea per programmare al più presto il rientro. Allora, quindi ci siamo immediatamente mossi. In realtà mi ero precedentemente mosso e ho mandato una serie di mail all'ambasciata a Mumbai che ci avevano detto di mantenere una posizione conservativa e di iniziare a pensare ad anticipare il rientro. Siccome tutti i voli della nostra compagnia erano stati sospesi e sarebbero riniziati dopo, se non erro, il 26 di marzo, ora non mi ricordo tutte le date perché qui è un casino, avevamo pensato di aspettare quella data e poi rientrare con il rebooking del volo. Ovviamente questa cosa non è possibile perché la Lufthansa ha cancellato tutti i tipi di voli, addirittura hanno rischedulato il nostro volo che doveva essere da Cinnai a Berlino, l'hanno rischedulato da Delhi, quindi come se noi col teletrasporto potessimo andare a Delhi, vabbè, fuori di testa. Ho chiamato tutti i numeri che ci ha dato l'ambasciata, purtroppo non ho avuto risposta e quindi ora ho provato a fare due check. Uno è la British, che ovviamente in Inghilterra they don't give a fuck, quindi la British vola tutti i giorni serenamente e potremmo prendere il volo da Cinnai e andare fino a Londra, posto dove non voglio stare perché loro non stanno facendo nessun tipo di controllo. Seconda compagnia che sembra volare è Emirates da Dubai e poi Dubai non sappiamo però se riusciamo a rientrare in Europa. Il punto è questo, fortunatamente abbiamo la possibilità di permetterci il volo perché i voli in questo momento sono i prezzi dei voli e alle stelle. Io credo sinceramente che in un momento del genere dove le persone hanno delle serie difficoltà in qualche modo andare a lucrare sui prezzi dei biglietti è totalmente da fuori di testa, però non è il momento di fare discorsi ora sui prezzi, è il momento di tentare di rientrare a casa e quindi ci proviamo, dai! Quello che avete appena visto succedeva la mattina del 19 marzo. Il messaggio dell'unità di crisi l'avevo ricevuto, anzi era stato inviato il giorno prima, quindi il 18, ma io l'ho ricevuto lo stesso giorno del discorso del premier indiano Modi che ha annunciato la sera la nazione che il giorno 22 in India ci sarebbero state un miliardo di persone chiuse in casa per una sorta di, chiamiamolo così, prova del 9 di lockdown dell'intera nazione. Allora, abbiamo prenotato i voli con Emirates, quindi abbiamo la possibilità, credo, di rientrare a Londra nel primo step e faremo 20 ore di viaggio per arrivare a Londra, spero che vada tutto bene, ovviamente la incognita più grande è riuscire a partire dall'aeroporto qua a Chennai, nel sud dell'India perché nel discorso alla nazione che ha fatto ieri il presidente indiano è peraltro un discorso bellissimo. Sono preoccupato perché oggi abbiamo letto che in Italia il numero dei morti in Italia ha superato il numero dei morti della Cina. siamo preoccupati per le persone che amiamo, per la nostra famiglia. Ho voluto continuare anche con i video su YouTube perché a casa fossero sereni, siamo preoccupati, in questo momento siamo preoccupati, ma siamo insieme e spero veramente che questa pagina nera di tutta l'umanità passi e passi velocemente. È tempo di prepararsi. Stanotte partiamo. Partire di notte è stata in qualche modo una salvezza perché ci ha fatto veramente evitare tutto un marasma umano che in India è impossibile non trovare. Nonostante il discorso del premier indiano che invitasse le persone a stare dentro casa, la situazione indiana era comunque questa. E una volta arrivati in aeroporto la situazione dei voli era in qualche modo drammatica perché come potete vedere il numero dei voli cancellati era veramente grande. Noi abbiamo volato con Emirates, come vi ho anticipato prima, e fortunatamente Emirates è una di quelle compagnie che è meno soggetta alle cancellazioni dei voli. L'aeroporto di Shinnai da dove siamo partiti la situazione era un po' paradossale da un certo punto di vista perché non c'eravamo solo noi che stavamo cercando di rientrare nelle nostre rispettive case ma c'erano anche proprio persone indiane che all'apparenza sembravano veramente fuggire in massa. Arrivate a Dubai la situazione era diversa da quella che onestamente mi ero in qualche modo immaginato perché quando sei dentro un contesto chiuso ti arrivano le notizie dall'Italia che badate bene sono diverse dalle notizie che arrivano dalla Germania o che arrivano in Svizzera o che arrivano in America quindi non sai onestamente qual è la verità però tutte queste cose ti arrivano addosso e a livello emotivo ovviamente ti colpiscono, ti scalfiscono inevitabilmente da qualche parte della tua armatura. Comunque la situazione a Dubai mi ha stupito in due momenti per due cose diverse la prima è l'incredibile igiene veramente dei servizi igienici davvero assurda cioè neanche a casa veramente ma la seconda non positiva è che non c'è il controllo delle temperature ora questa cosa un po' mi mi scricchia parecchio ecco però that's it una cosa che non abbiamo fatto è abbassare il livello di guardia che è stato altissimo veramente per tutto il viaggio quindi attualmente mentre uscirà questo video sono dieci giorni da quando siamo partiti che siamo in quarantena qua a Berlino e per il momento stiamo entrambi bene quindi dita incrociate e continuiamo a sperare in bene la cosa che mi preoccupava di più all'interno di questo viaggio era proprio il punto di Londra Londra in questo momento sappiamo che essere in una situazione totalmente diversa addirittura Boris Johnson ha ufficialmente contratto questo virus e quindi tutto quello che è in qualche modo l'ecosistema inglese sicuramente è cambiato e sarà destinato ancora a cambiare ma all'epoca Londra era semplicemente un posto dove questa notizia era semplicemente ignorata allora siamo appena arrivati a Londra siamo in camera di hotel accendo un attimo la luce se magari si vede meglio allora siamo appena arrivati dicevo è stato uno dei viaggi perlomeno per me peggiori della vita per il semplice fatto che agli inglesi di questa situazione che il mondo sta vivendo semplicemente non gliene frega un cazzo di niente ma proprio zero siamo arrivati all'aeroporto di Gatwick sì Gatwick nessun controllo semplicemente macchinetta passaporto si apre la porta e entri ciao vaffanculo c'è una nota dove c'è scritto tipo sappi che esiste il coronavirus quindi se c'è il raffreddore non viaggiare se hai la tosse la febbre eccetera cioè sono rimasto veramente di merda cioè a leggere le notizie in Italia e vedere che qua ha un tiro di schioppo non gliene frega un cazzo per le persone che vivono in Inghilterra veramente mi dispiace ma non solo per loro mi dispiace per tutta la merda che queste persone proprio sbattendosi nella minchia scelgono di portarsi in giro per il mondo ad ogni modo domani verso le 6 partiamo e se non cancellano il volo torniamo finalmente a casa dove ci metteremo anche noi in quarantena belli sereni sperando che tutto vada bene la notte della partenza però ho ricevuto la mail di annullamento del nostro volo quindi il 22 mattina alle 10 noi non saremo più partiti il nostro volo però è stato rischedulato alle 6 del pomeriggio dello stesso giorno ma non c'era stato dato il posto a sedere tradotto il volo era in overbooking questo perché tutti i voli del 22 erano stati annullati eccetto uno e quindi tutte le persone di questi voli erano convogliate dentro un unico volo le scene che abbiamo visto durante quel momento e anche le cose che emotivamente abbiamo affrontato noi durante quel momento della partenza sono state onestamente non propriamente belle una su tutte è stata una madre che era vicino a noi che stava piangendo perché una delle figlie aveva un posto e l'altra figlia invece no io non so quante persone sono rimaste fuori se è rimasto fuori qualcuno spero ovviamente di no ma la cosa brutta che è successa durante questo volo è stata che alla mia destra proprio nel posto finestrino non ci fosse una persona ma ci fosse una chitarra ho contato tre chitarre all'interno di un volo in overbooking con delle persone che hanno rischiato di rimanere a casa e questo non significa che le persone con gli strumenti musicali non possono portarseli dietro ma avrebbero sicuramente dovuto proprio le persone dell'equipaggio prendere questi strumenti e stivarli in un altro modo oppure metterli in una cabina chiudere un bagno non lo so ma il pensiero che possano aver lasciato tre persone a terra in una situazione del genere è onestamente raccapricciante nelle 48 ore di questo viaggio che sicuramente hanno over come uno dei viaggi più brutti ma anche al tempo stesso più belli che ho fatto nella mia vita perché ha questa dualità incredibile perché il senso di affrontare un viaggio del genere la bellezza di poter tornare a casa è qualcosa di veramente impagabile e nonostante ci siano tante persone che in questo momento si stanno lamentando di poter stare a casa dentro le proprie mura domestiche veramente vi invito con tutto me stesso a riconsiderare il fatto che non c'è il miglior posto di casa vostra per poter affrontare una situazione del genere c'è sicuramente paura per il domani perché non sappiamo non solo quando finirà ma non sappiamo neanche quando potremmo ripartire e come nessuno di noi è pronto a fronteggiare una cosa del genere non siamo pronti come uomini non siamo pronti come figli non siamo sicuramente pronti come padri non siamo pronti neanche come cittadini a fronteggiare una situazione del genere e sicuramente neanche la classe politica al di là di quali siano i vostri pensieri in merito non sono pronti a fronteggiare una cosa del genere e possiamo solo andare per tentativi sperando che le strade che sceglieremo siano le strade giuste e in un momento storico delicato come questo dove forse per la prima volta all'interno delle nostre vite tutto il mondo è racchiuso in una parola e questa parola è pandemia questa parola che ci spaventa così tanto allo stesso tempo però dall'altra parte ci rende o almeno dovrebbe renderci un solo e unico popolo con un unico obiettivo e questo è l'augurio che ho per tutti noi e spero davvero di cuore che prevalga il buonsenso che prevalga lo spirito di unione che questa cosa passi in fretta ma soprattutto che passi insegnandoci qualcosa bene ragazzi questo era il viaggio che abbiamo affrontato negli ultimi giorni io spero di cuore che tutti voi stiate bene che le vostre famiglie stiano bene e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao